Siamo qui con Filippo Liardo, vecchia guardia UCN. Complimenti per la buona partita, però purtroppo una sconfitta di 13 a 4. Come l'hai vista questa partita? Erano nettamente più forti, noi siamo ragazzi 97, c'è un 98, infatti in campionati d'eccellenza, promozione di Gioniamo Romelando. Ci siamo fatti questo torneo per cambiare, perché ha pioggiato sempre Under-21 questi campionati, però è giusto perché loro erano nettamente più forti e ci hanno dato una lezione di calcio. No, certo, sicuramente la squadra avversaria era un passo avanti, però facciamo tutti i complimenti perché siete più piccoli al torneo. Come vi vedete di qua alla fine del torneo? Ma io penso che comunque la scorsa partita, che abbiamo perso proprio all'ultimo secondo, contro comunque un'ottima squadra, quella di Orazio Urso, che erano più o meno ragazzi al giorno dello sport di Tormina, noi ce la giochiamo. Abbiamo avuto un manicomio di palle sprecate, poi il nostro quartiere ha avuto un po' di sfortuna e loro avevano un'ottima quartiere. Sicuramente, allora in bocca al lupo per qua alla fine del campionato, ci vediamo alla prossima. Grazie.